Grazie per la presenza. Si chiama Energia in Comune ed è la lista a sostegno di Candio Curina, candidato sindaco di Colli al Metauro per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. 70 anni, sposato, papà di due figlie, geologo ed ex dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo di Monte Felcino, Curina porta nella sua candidatura un bagaglio pieno d'esperienza da condividere con i numerosi candidati giovani della lista da lui guidata. Il programma presentato da Energia in Comune propone una serie di punti per la valorizzazione e lo sviluppo di Colli al Metauro che vanno dall'urbanistica alle politiche giovanili, all'ambiente e all'efficienza della macchina amministrativa. Altro punto importante del nostro programma è quello della scuola oltre che io sono molto vicino a questo problema. Sicuramente l'ultimazione degli edifici ancora incompleti e eventualmente l'adeguamento di quelli che non sono a norma dal punto di vista sismico. Poi dal punto di vista ordinamentale della scuola noi puntiamo molto al rafforzamento della scuola di base a tempo pieno, quindi la scuola primaria a tempo pieno. Poi la realizzazione, questa è una novità per questo territorio importante di una sezione primavera ed un potenziamento degli asili nido. Poi c'è un altro problema grave che è quello della viabilità di calcinelli soprattutto e qui le cose sono molto complicate perché c'è un problema di affollamento di mezzi nelle ore soprattutto di uscita dalle fabbriche e anche di mezzi pesanti. Quindi valutare e riconsiderare magari in modo operativo perché già il progetto risale a diversi anni fa un'uscita alla zona industriale Laghi 1 magari come è stata proposta snella, come è stata proposta recentemente con l'uscita venendo da Fano e l'ingresso andando verso Fano solo quindi corsie parziali ma che però sicuramente andrebbero ad alleggerire il traffico pesante di calcinelli. Cultura e turismo sono altri due snodi centrali del programma. Colli al Metauro ha spiegato Curina non deve essere più soltanto la meta di una gita fuori porta ma può e deve diventare una destinazione turistica a tutti gli effetti. Importante poi l'attenzione alle attività economiche. Questo periodo soprattutto per i piccoli negozi ha continuato è stato di forte difficoltà. Vogliamo valutare le richieste dei negozianti e intervenire sia con alleggerimenti fiscali sia con manifestazioni che portino turisti nel territorio. Tra gli obiettivi anche il fornire nuovi servizi per i borghi storici e la riqualificazione delle aree ormai degradate. Per quello che riguarda invece la ciclovia noi abbiamo sempre avuto dall'inizio la nostra contrarietà alla riattivazione della ferrovia sia che sia essa commerciale che sia turistica perché riteniamo che i costi di realizzazione di questa non giustifichino l'intervento e parallelamente penalizza quella che è una struttura importante sempre dal punto di vista ambientale che potrebbe essere la ciclovia. A completamento di questo discorso, questo è chiaro che non è nell'immediato ma è un discorso che va gettato alle basi e sviluppato è quello di creare da questa fascia di valle, di fondo valle principale delle ramificazioni a pettine che vadano verso i centri storici verso le aree panoramiche bellissime che noi abbiamo nelle colline sia in un versante che nell'altro. non sta a me perché ormai è conosciuto la bellezza dei borghi di Bontemaggiore, Saltara, Serrungarina, Barni, Pozzuolo cioè sono borghi stupendi che vanno valorizzati.